Buongiorno a tutti e a tutti. Buongiorno a tutti e a tutti e a tutti i miei amici di Volpri che presto ci vedremo per una rimpatriata, in particolar modo mandiamo i saluti a chi? A Patrizia, Beatrice, Anna, Giuseppe, Luca, basta no? Arrivederci a tutti dalla Genova Cario. Buongiorno a tutti. 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 Grazie 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 a tutti.